Copre i bisogni di una vasta fetta di territorio e quel territorio unito si è ritrovato in un abbraccio. Un abbraccio simbolico a cingere l'ospedale Ferrari di Casarano. Un abbraccio per mandare un messaggio chiaro. Il depotenziamento della struttura è inaccettabile. Oggi infatti il rischio è che uno dei fiori all'occhiello della sanità della provincia di Lecce non possa più fornire le cure necessarie. Tutti insieme per accendere un faro sulle problematiche del nosocomio e soprattutto per apporsi alla chiusura di corsie e servizi. Il momento clou di una settimana di iniziative. Davanti al Francesco Ferrari si è accampato da tempo il consigliere comunale Marco Mastroleo nella sua tenda dei diritti. Noi siamo qui, presideremo, cambieranno le modalità di lotta però staremo qui. Non tutti i giorni io sono letteralmente sfiancato però cercheremo di mantenere alto il presidio. Dormire in tenda tutte le notti è stato veramente pesante. Il palco ha ospitato i pensieri di alcuni dei protagonisti poco prima dell'abbraccio che ha circondato il nosocomio. Difendere gli interessi della salute è un diritto costituzionale, ha detto Antonio Filograna Sergio, ricordando con passione che bisogna restare uniti. Noi chiediamo che ci sia una convergenza di idee e di decisioni che non penalizzi un ospedale piuttosto che un altro ma che trovi le giuste contromisure, le giuste soluzioni ai bisogni primari perché la salute è qualcosa che ci appartiene ed è un diritto sacrosanto anche esercito dalla Costituzione. Nessuna guerra di campanile ma qui c'è un territorio che si sente emarginato. Il Salento costantemente discriminato da una politica baricentrica, ha detto il consigliere Paolo Pagliaro che ha garantito tutto il suo impegno. Noi giriamo tutti gli ospedali e avevamo già segnalato che questo è un ospedale che dovrebbe essere di primo livello, è stato declassato a ospedale di base nonostante serva un bacino di utenza di 180 mila abitanti che d'estate diventano 600 mila. Abbiamo visto anche la presenza di tutti i sindaci, questo non è l'ospedale di Casarano, questo è l'ospedale di un pezzo di Salento e deve essere garantito il diritto alla cura di tutti. Questo ospedale purtroppo giorno dopo giorno viene declassato anche svilito di apparecchiature, di attrezzature, di personale, di reparti, quindi bisogna difendere questo ospedale come tutti gli altri ospedali del Salento e fare finalmente quadrato tutti uniti per fermare questa deriva baricentrica che ormai è diventata ossessionante, oppressiva e sinceramente questa mobilitazione dal basso oggi mi fa ben sperare per il futuro della nostra terra. Una battaglia per il territorio alla quale hanno aderito associazioni, enti, attività commerciali, attività di servizi, imprenditori ed istituzioni. Le nostre comunità, le comunità del basso Salento, le comunità del comprensorio di Casarano che ribadisco è uno dei più popolosi, dei più dinamici, dei più produttivi di tutta la provincia vuole una sanità di eccellenza e la sanità di eccellenza così come tutti questi anni è stata assicurata da questo presidio ospedaliero di Francesco Ferrari che era secondo soltanto al Vito Fazzi di Lecce. Tutti insieme per difendere il diritto alla cura, il più grande bene comune.